Oggi leggiamo il Salmo 84 e dice così O quanto amabili sono le tue dimore, o eterno degli eserciti! Quanto amabili sono le tue dimore! Noi ci ricordiamo che nei Vangeli il Signore Gesù Cristo disse ad un certo punto agli Apostoli Io me ne devo andare E gli Apostoli infatti erano molto tristi perché sapevano che il Signore se ne doveva andare e che li avrebbe lasciati da soli Il Signore Gesù Cristo disse Io me ne vado Nella casa del mio padre ci sono molte dimore e io vado lì a prepararvi un posto Così disse il Signore Gesù Cristo agli Apostoli Vado a prepararvi un posto E chi sa quante dimore ha il Signore Sicuramente migliaia o anche milioni E noi siamo qui confidando nel Signore Sperando che un giorno noi potremo godere di quelle dimore E queste dimore esistono Qui nel Salmo preannuncia l'esistenza di queste dimore E infatti quando il Signore Gesù Cristo parlò agli Apostoli Disse nella casa del mio padre ci sono molte dimore E infatti qui nel Salmo anticipa le parole del Signore Gesù Cristo agli Apostoli E dice O quanto amabili sono le tue dimore O eterno degli eserciti L'anima mia anela e si strugge per i cortili dell'Eterno Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente Qui il salmista o il profeta Dice che la sua anima e il suo cuore Mandano grida di gioia al Dio vivente E anche noi potremmo dire la stessa cosa La nostra anima, il nostro essere Sono felici e cantano al Signore E sperano e desiderano quelle dimore Verso 3 Anche il passero, che è un piccolo uccello Trova una casa E la rondine un nido Anche la rondine è un piccolo uccello Dove posare i suoi piccoli Presso i tuoi altari O eterno degli eserciti Mio re e mio Dio Questi animali Cioè il passero e la rondine Costruivano il loro nido Vicino all'altare del Signore Certo, qui sta parlando del tempio fisico Di Salomone Quindi gli altari erano fisici E questi passeri e le rondine Facevano il nido Sulla parte alta della facciata dell'edificio E i passeri e le rondine Desideravano quindi anche essi stare Nella casa del Signore Quanto più noi, esseri umani Dobbiamo desiderare di stare Nella casa del Signore In quell'epoca la casa del Signore Era fisica, materiale Ma oggi la casa del Signore È questa È il cuore di uomini e donne Che amano Dio Che seguono la sua via E compiono i suoi comandamenti Perciò Chiunque Sente Di avere questo nel cuore Può dire Io sono la casa di Dio Sono il tabernacolo di Dio Ma ci sono anche altre dimore Nell'eternità col Signore Così che possiamo godere anche di quelle un giorno Verso 4 Beati coloro che abitano nella tua casa E ti lodano di continuo Questi beati Erano gli stessi passeri Le stesse rondini Che abitano nella tua casa E ti lodano di continuo Oltre ai passeri E alle rondini C'erano anche i sacerdoti Che erano all'interno del Tempio Ministrando I doni del Signore E loro erano beati Oggigiorno Siccome il nostro cuore È il Tempio del Signore Allora anche noi oggi Possiamo dire Di essere beati Come diceva l'Apostolo Paolo Non sapete che il vostro corpo E il vostro cuore Sono il Tempio di Dio? Allora Se noi ci consideriamo Il Tempio di Dio Allora vuol dire Che siamo beati Dice poi il verso 5 Beato l'uomo Che ripone la sua forza In te Cioè che ripone la sua forza Nel Signore E che ha in cuore Le tue vie O Signore Quindi beato L'uomo Che ripone la sua forza In te Che segue Il cammino del Signore Sei Quando attraversano La valle di Baca La trasformano In luogo di sorgenti Vuol dire Che un uomo O una donna Che si sono convertiti Nella casa di Dio Nel Tempio di Dio Sebbene attraversino Momenti difficili Tribolazioni Problemi Anche se vivono Dei giorni brutti Non ci sarà Tristezza Nel loro cuore Perché se essi Sono la casa di Dio Sono il Tempio di Dio Se camminano con Dio Allora il Signore Trasforma Il loro cuore E le rende Delle persone Felici Piene di vita Piene di salute Piene di vigore Di pace Di tranquillità Perché il Signore Trasforma Le cose brutte In cose belle In cose perfette Migliori Per quell'uomo E quella donna Finché essi Possono godere Della presenza di Dio Possono vivere Vicino al Signore Possono stare Col Signore Allora Quanto bello è Che noi possiamo dire Siamo il Tempio di Dio Siamo qui Il nostro cuore È la casa di Dio E siamo beati Quindi Beati tutti coloro Che appartengono al Tempio O alla casa del Signore E beati tutti coloro Che lo lodano di continuo Come noi Sebbene Siamo nel mondo Sebbene Partecipiamo Alle cose del mondo Stiamo lavorando In imprese In fabbriche Stiamo studiando Sebbene noi Siamo nel mondo Lì c'è la casa di Dio Lì si trovano Gli uomini E le donne Che godono Dei benefici del Signore Perché sono il Tempio di Dio Ma la gente dice A volte di noi Ah Voi Che andate in quella chiesa Siete gente annoiata Siete gente Amareggiata Che siete tristi Che non godete della vita Ma se sapessero Quanto noi Possiamo godere della vita Come figli di Dio Come seguaci del Signore Come credenti nel Signore Se sapessero Tutto quello Che abbiamo vissuto Nel Signore Se sapessero Cosa abbiamo goduto Se sapessero Quanto siamo felici E quanto possiamo godere Di tante cose Perché noi possiamo Gioire e godere Di tante cose Che il mondo Ci offre In un modo sano Mentre il mondo Cerca i piaceri Ma non hanno pace Nel loro essere Non c'è felicità Nella loro anima E invece noi Sì Godiamo di tante cose Del mondo Ma col Signore Quindi in un modo diverso E Dio desidera Che tutti noi Possiamo andare avanti E che Tutti possiamo Perseverare Fino all'ultimo momento Della nostra vita Io retrocedo Nel verso numero 5 Perché quando dice Beato l'uomo Quando dice Beato l'uomo Che ripone La sua forza in te Sta parlando Di uomini E di donne Sta dicendo Uomini E donne Però si usa La parola generica Uomo Ma in realtà Dio ha creato L'uomo E la donna Non solamente L'uomo Ambo I sessi Qualcuno un giorno Mi chiese Esiste Un terzo sesso Oltre all'uomo E la donna Forse Dio si è sbagliato Quando ha creato L'uomo E la donna La scienza Forse dice così La scienza dice Che in futuro Ci sarà un terzo sesso Ma Dio ha creato L'uomo E la donna Questo esiste E questo esisterà Sempre Sebbene l'uomo E la scienza Inventino Tante cose Ma noi dobbiamo Credere solamente In quello che Dio ha detto E in quello che Dio ha creato Perché Lui si è manifestato Nella nostra vita E si manifesterà E sappiamo che Lui esiste E siccome Lui esiste Quello che ci insegna È la verità Anche se la scienza Vuole insegnare altro Ma fino ad ora Ma fino ad ora non ci ha dato Prove tangibili Che dimostrino Che la teoria Che porta avanti La scienza Possa essere verità Quindi quest'uomo Significa sia uomo Che donna E il Signore Benedice sempre Quest'uomo E questa donna Ponendolo sempre Nel cammino corretto Quindi verso 6 Quando attraversano La valle di Baca Cioè di trebolazioni La trasformano In luogo Di sorgenti Queste sorgenti Sono le benedizioni Che Dio dà A quest'uomo A questa donna Che seguono Il Signore Che seguono la casa O il tabernacolo Del Signore E la prima pioggia La ricopre Di benedizioni Sette Essi vanno Di valore In valore Cioè quest'uomo E questa donna Andranno Di valore In valore Cresceranno spiritualmente E infine Compaiono davanti a Dio In Sion Quindi un giorno Loro vedranno Dio Vedranno Dio Perché sono quella Sion spirituale Queste sono le promesse Meravigliose Che Dio concede A quest'uomo E a questa donna Che si sono convertiti Nella casa O nel tabernacolo Del Signore Quindi il Signore Prepara Le dimore A quest'uomo E a questa donna Anche noi Desideriamo Queste dimore Nell'eternità Desideriamo Che il Signore Ci prepari Queste dimore Nell'eternità Finché possiamo essere Felici E godere Della presenza Di Dio Verso 8 Il salmista dice O Eterno Dio degli eserciti Ascolta la mia preghiera Tendi l'orecchio O Dio di Giacobbe Giacobbe Si riferisce Al popolo di Israele Che a sua volta Simboleggiava Un Israele Spirituale Che sarebbe arrivata In futuro Tramite Il Signore Gesù Cristo E Gesù Cristo È il capo Della Chiesa È la testa Della Chiesa Quindi qui dice O Eterno Dio degli eserciti Ascolta la mia preghiera Tendi l'orecchio O Dio di Giacobbe Quindi qui parla Il Signore Gesù Cristo E anche il salmista Dicendo O Dio Ascolta Ascolta la Tua Chiesa Ascoltami Io che sono Il Signore Gesù Cristo Perché voglio formare La Tua Chiesa Quaggiù sulla terra Verso 9 Vedi O Dio Nostro scudo E riguarda La faccia Del Tuo Unto Cioè del Signore Gesù Cristo Sì Un giorno Nei Tuoi cortili Val più Che mille Altrove Quindi È preferibile Stare nei Tuoi cortili Cioè Nella Tua casa O Signore Piuttosto che altrove Poi dice Io preferisco Stare Sulla soglia Della casa Del mio Dio Che abitare Nelle tende Degli Empi Qui il salmista Stava facendo Una scelta Siccome lui Aveva già capito E compreso Il cammino Del Signore Allora scelse E disse Signore Io voglio Camminare Nei Tuoi sentieri E dice Io preferisco Stare Un giorno Nella Tua casa Che mille Nel mondo Perché il mondo Non mi dà La felicità Sì ci sono Tanti piaceri Ma non sono La felicità Verso 11 Dice Perché l'Eterno Dio È sole E scudo Lui è la luce Lui è il calore Lui è lo scudo Che ci protegge Dal male E dai pericoli Poi dice L'Eterno Darà grazia E gloria Egli non rifiuterà Alcun bene A quelli che camminano Rettamente Qui sta ripetendo Che coloro Che camminano In rettitudine Il Signore Non si allontanerà Mai da loro Anzi Li benedirà Continuamente E darà a loro Del bene Dice il 12 O Eterno Dice o eterno Degli eserciti Beato L'uomo E la donna Perché quando dice L'uomo Ricordiamoci Che l'uomo Significa Uomo E donna Quindi Beato L'essere umano Che confida In te Che confida In te O Signore Che cerca Il Signore Che crede In lui Che spera In lui E che aspetta Lui Il Signore Così grande E misericordioso Che poi Mi racconterete Quello che avete ricevuto Oggi Perché sicuramente In questo momento Non vi siete resi conto Ma poi Vi renderete conto Di quello che Dio Oggi vi ha dato Grazie al Signore Grazie a Dio Grazie a nostro Dio